buongiorno amici oggi vi presentiamo emcee 200 un dispositivo di all technologies che ci consente di rendere più creative le nostre videoconferenze software come perché emcee 200 è uno scaler multi viewer uno scaler multi viewer è un dispositivo che accetta diversi segnali video in ingresso e mi offre in uscita la composizione di questi segnali video in finestre nella modalità che preferisco vediamo qualche esempio per questa dimostrazione abbiamo connesso a emcee 200 quattro dispositivi video in hdmi due computer portatili che stanno visualizzando reciprocamente due contenuti diversi un click and show k40 che è il famoso dispositivo di condivisione wireless di kinderman che ci permette a sua volta di condividere ulteriori apparecchiature in wireless e una telecamera in hdmi vediamo ora alcuni esempi di visualizzazione andando a richiamare delle preimpostazioni che sono quelle di fabbrica questa è la numero uno che mi fa vedere una visualizzazione a schermo intero vediamo due ingressi affiancati vediamo quattro ingressi tra cui telecamera e gli altri input e poi ad esempio un'altra visualizzazione che è il classico quad view con i quattro riquadri contemporaneamente sullo schermo questo è il pannello frontale di emcee 200 vediamo quattro tasti finestra abcd questo è il nome che viene attribuito alle finestre e i quattro ingressi 1 2 3 4 inoltre ancora destra abbiamo i quattro tasti che identificano i preset quindi richiamo delle preimpostazioni di fabbrica o delle prime quattro preimpostazioni che l'utente può personalizzare se io voglio ad esempio in questo caso sono nella preimpostazione 1 quindi abbiamo la visualizzazione a pieno schermo se io voglio portare su questa visualizzazione a pieno schermo un altro ingresso in questo momento stiamo vedendo l'ingresso 3 premerò il tasto della finestra che sto visualizzando in questo momento che è la finestra a e andrò a richiamare ad esempio l'ingresso 4 che è la telecamera come vedete il dispositivo mi visualizza la telecamera se invece voglio cambiare una delle preimpostazioni di visualizzazione andrò nei tasti di preimpostazione e sceglierò ad esempio il nuovo tipo di visualizzazione in questo caso è la numero 2 è il preset 2 quindi abbiamo due ingressi affiancati due finestre affiancate la 3 abbiamo tre finestre affiancate nella parte bassa e una nella parte alta più grande oppure il tasto 4 che mi fa vedere la classica visualizzazione quad view quindi quattro riquadri come vedete ogni riquadro è circondato da una cornice colorata vediamo come le quattro finestre siano incorniciate con dei colori differenti questo aiuta molto come codice colore a riconoscere immediatamente qual è la finestra su cui vogliamo lavorare ecco vi mostro ora come è possibile inserire il medesimo ingresso in tutte e quattro le finestre quindi seleziono la prima finestra e porto l'ingresso numero 3 seleziono la seconda finestra e anche a questa dall'ingresso numero 3 seleziono la quarta finestra e faccio la stessa cosa ho portato lo stesso ingresso il numero 3 a tutte e quattro le finestre vediamo ora il pannello posteriore di mc200 allora quattro ingressi hdmi 1 2 3 e 4 appena sopra gli ingressi hdmi vediamo l'audio embedded che può essere in versione toss link quindi ottico mini jack stereo possiamo embeddare anche un ingresso microfonico embeddare significa incorporare un segnale audio nel video che andrò a visualizzare un secondo ingresso microfonico questa volta con connettore phoenix più professionale è la possibilità di selezionare il fatto che questo ingresso phoenix mi si imposti o come microfonico o come linea e in più abbiamo l'estrazione dell'audio dal segnale video che può essere sempre con segnale ottico mini jack o di nuovo phoenix abbiamo l'estensione del segnale infrarosso tramite questo connettore due slot di espansione gli slot di espansione possono essere utilizzati per ad esempio connettere una scheda amplificatore audio più potente oppure nel secondo slot inserire una scheda che mi permette di estendere i segnali dello scaler in hd base t 3.0 abbiamo due uscite hdmi la uscita present che è quella che si collega direttamente allo schermo di sala quindi videoproiettore o monitor di grande formato e l'uscita confidence che è il segnale video che io metto a disposizione del presentatore il quale deve dare le spalle alla presentazione abbiamo un attacco seriale per controllare lo scaler da un sistema di controllo ma la cosa più bella in assoluto la cosa speciale di questo scaler è il collegamento usb 3.0 che se collegato a un computer che va in videoconferenza con teams zoom webex piuttosto che google meet vede questo scaler questo multi viewer come se fosse una webcam e quindi posso realizzare una mini regia del mio webinar della mia sessione di lavoro della mia presentazione con tutti quegli effetti di multifinestra che abbiamo visto poco fa infine collegamento alla rete per il controllo dello scaler attraverso la sua pagina web interna o un sistema di controllo esterno e l'alimentazione con connettore a vite per una maggiore sicurezza vediamo ora come è impostato il pannello frontale abbiamo i quattro tasti delle finestre a b c e d i quattro tasti degli ingressi 1 2 3 4 e i quattro tasti dei primi quattro preset le prime quattro preimpostazioni in realtà lo scaler ha la possibilità di memorizzare molte più preimpostazioni vedremo dopo come abbiamo una regolazione master del volume abbiamo la possibilità di selezionare e deselezionare i due microfoni abbiamo una regolazione master del volume del microfono e poi abbiamo un tasto con quattro frecce e pulsante centrale di conferma per navigare nel menu su schermo inoltre immediatamente il tasto present per attivare o disattivare l'immagine sullo schermo principale è molto molto interessante forse ancora di più della possibilità di collegarlo in videoconferenza il tasto rec che mi permette di registrare tutto quello che avviene attraverso lo scaler su una memoria collegata a questo ingresso usb 2.0 quindi io qui posso collegare una chiavetta o posso collegare ad esempio un hard disk esterno con collegamento usb 2.0 questa è la pagina web di controllo del multiviewer all technologies e mc e e 200 vi si accede tramite un browser digitando nella balla degli indirizzi l'indirizzo ip della rete locale attribuito al multiviewer per entrare nel setup di controllo usiamo le credenziali di default che sono utente admin e password admin sempre tutto in minuscolo clicchiamo su login e vediamo immediatamente caricare tutte le impostazioni che sono quelle di default il menu è a fisarmonica vedete abbiamo home presets windows and layout settings eccetera vediamoli velocemente nel menu home posso attribuire un ingresso video ad ogni finestra più o meno quello che abbiamo visto fare prima possiamo richiamare una preimpostazione come vedete dalla pagina web le preimpostazioni diventano 10 richiamabili contrariamente al pannello frontale dove ne ho solo 4 quindi il consiglio è quello di preimpostare i layout più utilizzati nei primi quattro nelle prime quattro locazioni di memoria e le altre nelle restanti 10 possiamo abilitare la registrazione sulla chiavetta usb decidere che quale deve essere l'audio principale quindi deve seguire l'audio di una delle quattro finestre oppure utilizzare l'ingresso stereonalogico o quello ottico digitale oppure in mute oppure un'estrazione audio di uno dei quattro ingressi hdmi abbiamo la possibilità quindi di regolare il volume dell'audio in uscita attraverso il segnale hdmi e il guadagno dei due ingressi microfonici nel menu preset abbiamo la possibilità di impostare la memorizzazione su una delle dieci memorie di quanto abbiamo poco fa nel menu home impostato qui c'è il l'impostazione della modalità di visualizzazione sulle due uscite hdmi uscita confidence ricordo quella che serve per il relatore e l'uscita presente è l'uscita che va al monitor di grande formato al video proiettore della meeting room e in questo menu posso decidere se queste uscite saranno uguali quindi avrò una situazione mirror oppure se funzioneranno in maniera indipendente in maniera indipendente io la possibilità di mostrare al relatore una schermata diversa rispetto a quella che viene presentata al pubblico in sala ad esempio il relatore potrebbe vedere se stesso in una finestra e le slide di presentazione nell'altra nelle impostazioni video sono abbastanza tecniche posso decidere la tipologia di risoluzione in uscita quindi nativa oppure forzare una risoluzione diversa in base al display che sto utilizzando posso impostare la tipologia di hdcp che è il protocollo di protezione dei contenuti del copyright video indipendentemente su ciascuno dei quattro ingressi posso decidere se l'impostazione di hdcp è passante oppure forzata su 1.4 2.2 sulle uscite magari queste informazioni più tecniche sono utili appunto a chi opera come tecnico in questo settore e posso indipendentemente per ogni finestra regolare le impostazioni di immagine di luminosità contrasto saturazione e colore vedete scelgo la finestra in base ad ogni finestra io posso agire in maniera indipendente per quanto riguarda la parte di menu quindi tutte quelle scritte che vediamo in sovraimpressione sul display quando operiamo con il multi viewer possiamo personalizzare il nome delle finestre delle sorgenti impostare il time out del osd lo sd è il menu che compare su schermo e il time out è il tempo per il quale resterà visualizzato una volta attivato quindi in questo caso 30 secondi significa che una volta che io attivo il menu su schermo dopo 30 secondi scomparirà automaticamente possiamo impostare le etichette relative alle finestre per ogni singola finestra anche in questo caso e quindi decidere di mostrare o non mostrare il bordo il nome della sorgente il nome della finestra e il flash che è un effetto che avviene quando io esposto la visualizzazione da una finestra all'altra quindi una specie di flash che compare sul sulla cornice stessa della finestra abbiamo per ciascun ingresso la possibilità di cambiare le impostazioni di edid ricordo che id id è l'informazione che il monitor manda alla sua sorgente quindi se io collego un monitor a un computer ad esempio questo monitor dirà il computer qual è la sua risoluzione quali sono i suoi le sue impostazioni di timing quindi di frequenza di refresh e nelle informazioni di edid o id id se lo vogliamo dire in inglese ci sono anche le impostazioni relative ai canali audio come vediamo in questo caso abbiamo l'impostazione 4k 60 hertz come risoluzione video e per quanto riguarda l'audio i 7 canali più 1 tipici di un sistema surround infine la configurazione ip che ci consente di accedere all'indirizzo mac del dispositivo gli indirizzi della rete interna e eventualmente decidere se vogliamo lavorare con un ip statico o in dhcp in questo caso sarà la sistema di rete stesso che offrirà un indirizzo ip al multiviewer nel menu di amministrazione finale vediamo la possibilità di bloccare il pannello frontale se non vogliamo correre rischi che magari durante un evento qualcuno per sbaglio lo preme un tasto e cambia la visualizzazione possiamo cambiare la password di accesso a questo menu via web e anche caricare un file di aggiornamento del firmware del multiviewer stesso questo è quanto per quanto riguarda la parte di controllo via web grazie ancora per averci seguito e un arrivederci al prossimo video ciao da Gmultivision